Tappa Bergamo per imprese vincenti, il road show di Intesa San Paolo perché valorizza le eccellenze imprenditoriali italiane. Per l'occasione sono state selezionate 15 aziende. Stefano Barrese, responsabile della Banca dei Territori di Intesa San Paolo. Dandogli credito per lo sviluppo, accompagnandoli nei percorsi di crescita, anche dal punto di vista del supporto che possiamo dare loro della capitalizzazione, quindi nel rafforzamento patrimoniale, portandoli nei percorsi di crescita all'estero, quindi nell'internazionalizzazione e poi anche rendendo visibili quelle che sono le storie di successo per cui Imprese Vincenti è servito proprio a questo, cioè a valorizzare il percorso di quelle aziende che hanno fatto, di fatto la strada della crescita interna, la strada della crescita internazionale, il rafforzamento patrimoniale, gli investimenti in tecnologia ed è il modo con il quale giustamente diamo loro visibilità dopo averle migliorate dal punto di vista del rating perché sono tutti quegli elementi che noi valorizziamo nel rating qualitativo ed è il modo attraverso il quale diamo loro visibilità, diamo loro visibilità alle storie specifiche di ognuna affinché possano essere anche motivo di imitazione per gli altri. Il progetto di Almini. Almini è un'azienda storica vigevanese, è stata fondata da Pietro Almini nel 1921 ed è giunta alla quarta generazione. La famiglia Ruggero la conduce sempre con la filosofia dell'azienda, ovvero l'impiego di antiche artigianalità e cura per il dettaglio e poi posso anche dire eticità nel processo produttivo. L'innovazione di Salf. L'azienda può considerarsi vincente soprattutto per l'attività svolta negli ultimi anni in cui ha puntato a innovarsi profondamente sia dal punto di vista dei prodotti che delle competenze che anche dalle tecnologie che adotta. Credo che questa sia stata la chiave del successo soprattutto negli ultimi anni. L'idea di Bico Oc. Oggi facciamo 12.000 pasti al giorno, serviamo marche prestigiose del mercato. Noi abbiamo ritagliato la nostra nicchia che è quella di servire dando un prodotto migliore a servizio del cliente. Nella ristorazione collettiva siamo un po' i sarti su misura e non siamo la multinazionale che guarda i numeri, i bilanci e tutte queste cose. Nella ristorazione collettiva siamo un po' i sarti sui misura e non siamo un po' i sarti sui misura.